Musica Buonasera e bentrovati con il TG Plus di TRG. Questa sera parliamo di un importante appuntamento che torna dopo la lunga, purtroppo, parentesi del Covid. Perché sarà la città di Toghi ad ospitare la quarta edizione della festa dei nonni in Umbria. Che è promossa dall'associazione 50 e più con il patrocinio della regione Umbria. E allora andiamo proprio a presentare il presidente dell'associazione 50 e più. E qui con noi in studio Giancarlo Acciaio. Buonasera presidente, bentrovato qui a TRG. Innanzitutto prima di parlare di questo bel appuntamento che torna in calendario per il 2 ottobre. Parliamo proprio dell'associazione 50 e più. Di che cosa si occupa? Dunque la nostra associazione nasce negli anni 70 in Confcommercio. È un grande sistema associativo e di servizi. È nato appunto come federazione nazionale degli anziani proprio per assisterli alla pensione. Poi però con l'avvento anche dei centri fiscali. Noi siamo CAF in tutti gli effetti. Quindi abbiamo ampliato il nostro raggio di azione con assistenza fiscale. Poi logicamente i nostri soci, che so, a questo punto diventati quasi 330 mila. In tutta Italia, in Umbria siamo 6 mila. Comunque non è che siamo pochi. E logicamente i nostri soci hanno sempre cercato qualcosa di più del semplice servizio. E quindi abbiamo creato nel tempo degli eventi culturali, sportivi, che praticamente portiamo in tutta Italia con i nostri soci, perché noi abbiamo 105 sedi provinciali, con i nostri servizi che diamo appunto in tutta Italia, con 800 punti di ritrovo, che sono praticamente i centri di assistenza. 2 mila professionisti che si impegnano tutti i giorni per portare appunto questi servizi e queste attività al nostro servizio, al servizio dei nostri soci. Abbiamo creato anche nel tempo una rivista, che è il mensile che ha più tiratori in Italia, circa 700 mila copie. E' fatto veramente bene. Che cosa contiene? Non è in vendita. Non è in vendita. Non è in vendita, lo diamo ai nostri soci, però facciamo una tiratura di circa 700 mila copie, che poi distribuiamo nelle nostre sedi e quindi chi arriva anche a fare i 730, noi solo in Umbria facciamo circa 20 mila 730. Quindi diamo servizio a tante persone. Numeri importanti. E logicamente i nostri soci non sono solo anziani del commercio, ma nel tempo si è allargata la nostra platea. Abbiamo professionisti, professori, maestri, gente che nella cultura ne fanno il loro pane quotidiano. E noi come commercianti abbiamo fame anche di cultura, perché logicamente il nostro lavoro certe volte non ci ha portato neppure ad acculturarci tanto. E per questo abbiamo creato il motto dell'invecchiamento attivo, che praticamente ci porta in tutta Italia a creare eventi come Italia in canto, come la mostra di pittura e fotografia. Poi in più gli eventi sportivi che sono le Olimpiadi. Noi facciamo le Olimpiadi sia invernale che estive. Le estive sono tornate una settimana scorsa da San Vincenzo degli Etruschi a Livorno. Circa 800 soci che si cimentavano dai 40 agli 80 anni, anche 90 anni, nelle varie discipline. Certo, mica in gara ognuno nella propria categoria, però vedere gente di 80 anni, 90 anni che faceva la marcia, che faceva la corsa, che giocava a bocce, per noi dirigenti è un pochino una soddisfazione molto molto grande. Ecco, perché voi volete proprio migliorare la qualità della vita delle persone, corretto? È per questo che l'abbiamo chiamato invecchiamento attivo. Le nostre attività, tutto quanto quello che si svolge nell'ambito della nota 50 e più. Ecco, sì, vi impegnate proprio a costruire una società in cui tutti possano vivere pienamente e dare il proprio contributo allo sviluppo sociale. Ed è per questo che una delle tante iniziative che portate avanti e che torna, dicevamo, finalmente dopo la lunga parentesi del Covid, è quella della Festa dei Nonni in Umbria, che si terrà a Todi il prossimo 2 di ottobre. Innanzitutto, che cos'è la Festa dei Nonni per chi non la conosce? La Festa dei Nonni, come anche ha ribadito il Papa, che a luglio ha creato appunto questa Festa dei Nonni a livello mondiale, noi già la facevamo nelle varie province, diciamo la Festa dei Nonni, si sa, si radunavano alcuni nonni, si premiavano, però noi qui in Umbria nel 2017 abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Qualcosa di più? Scusate, i nonni sono nonni tali perché hanno i nipoti. E allora abbiamo cercato di coinvolgere i nipoti. Coinvolgere i nipoti come? Noi abbiamo contattato, contattiamo tutti gli anni circa 450 scuole della Quarta Elementare di tutta l'Umbria. A questi ragazzi diamo un tema, un tema che può essere una poesia oppure un tema sui nonni. Abbiamo fatto delle... Quest'anno abbiamo creato qualcosa di diverso, su una base musicale e a tutti i ragazzi abbiamo fatto intervistare i nonni, estrapolare le frasi più belle e crearci una canzone sulla base musicale che gli abbiamo dato noi. Quindi proprio le parole dei nonni sono diventate il vero e proprio brano musicale. Esatto, esatto. Speriamo che vengano fuori delle belle cose, ma sono state... Noi premiamo quest'anno cinque classi di varie città dell'Umbria e non so neppure ancora la classifica perché domenica prossima saranno premiate, ma un pool di esperti hanno premiato cinque classi che saranno presenti con i loro nonni e i loro genitori nel teatro di Todi. Un teatro messo a disposizione dal comune di Todi, che io ringrazio veramente da questa emittente perché hanno messo a disposizione le piazze, i locali, tutto quello che abbiamo chiesto, il piano sicurezza, proprio per rendere la festa dei nonni vivibile e accessibile a tutti. Noi ci incontreremo alle nove di mattina, in tutte le chiese delle parrocchie di Todi verrà celebrata una messa in onore dei nonni. Nella cattedrale ci sarà il Vescovo, speriamo che possa venire perché ci ha dato l'ok, ma a volte loro hanno degli impegni un pochino più... non più grandi, ma magari diversi. E appunto sarà fatta una messa, una celebrazione in onore dei nonni. Dopodiché ci sposteremo nel teatro di Todi, circa 500-600 persone, perché saranno quelli che assisteranno alla premiazione perché consideri che 5 classi sono 100 ragazzi come minimo, più le maestre, più i nonni e i genitori, perché anche i genitori vorranno essere presenti, ecco perché è una festa di famiglia e non solo dei nonni, proprio perché coinvolge un po' tutti. Premeremo queste persone, premeremo i ragazzi, non con i soldi ma con materiale didattico, che le maestre sceglieranno, poi prenderanno a spese nostre e che useranno nell'anno scolastico. Quindi perché abbiamo scelto la quarta elementare? Perché poi, finita la scuola, continueranno a lavorare e con l'inizio della scuola, appunto quest'anno, che si trovano in quinta, potranno essere ancora, avere un anno di tempo per i loro lavori e presentarsi, insomma, anche a questo avvenimento, insomma, in tutta magna pompa, perché sono, praticamente, sono loro i primi attori, perché vogliono, appunto, dimostrare ai loro nonni quanto ci tengono e i nonni, in questo punto, nonni tali perché noi diventiamo nonni, quando, io sono nonno anch'io, quando si diventa nonni comincia un'altra vita, diciamo, ecco perché abbiamo coinvolto i nipoti, perché si nasce una seconda volta e si invecchia di meno, ci si rende, ci si sente più giovani e quindi noi, con questa nostra associazione, vogliamo dimostrare proprio questo, di restare a tempo, perlomeno nei nostri anni, con la vita che un pochino ci permette di essere attivi. Ecco, il Covid un po' ci ha allontanato, no? Ha allontanato le generazioni che in questa occasione, nella festa dei nonni, possono finalmente rincontrarsi, passare del tempo insieme. Quanto è importante questo scambio generazionale? Importante perché, diciamo, che i nipoti soprattutto sentono il bisogno dei nonni e qualche volta, con il tempo di Covid, sono stati anche lontani diversi mesi. E noi, con questa manifestazione, appunto, riavviciniamo le famiglie, soprattutto le famiglie, che è molto importante. Ci sono i nonni fortunati che vivono con i nipoti, ma ci sono anche chi è che magari vive un pochino lontano, anche molto lontano. Noi abbiamo, le nostre sedi sono, ecco, volevo, piccola parentesi, sono non solo in Italia, ma sono anche all'estero. Noi abbiamo sede in tutto il mondo, sede 50 e più. Abbiamo manifestazioni di persone che dicono, ah, io ho la 50 e più in Canada. Ho avuto dei riferimenti precisi, io personalmente. Quindi diciamo che siamo un po' conosciuti in tutto il mondo, perché diamo dei servizi che sono proprio, proprio, fedevoci alla nostra vita di nonni e di persone di una certa età, insomma. Poi una cosa che non abbiamo considerato finora, ma questa manifestazione promuove anche il territorio, perché guardando anche alle edizioni precedenti, le tante città dell'Umbria, penso a Gubbio, penso a Spoleto, penso a città di Castello, sono state letteralmente invase dalle famiglie. Esatto, noi ogni manifestazione abbiamo avuto più di 1500-2000 presenze effettive, perché poi magari alla mattina durante la premiazione più di 500 persone non si possono ospitare. Però durante il pomeriggio, dalle tre in poi, dopo aver fatto pranzato insieme, a proposito ringrazio anche il ristorante di Todi che hanno promosso questi piatti dei nonni con un prezzo accessibile a tutti, che va dai 15 ai 18 euro, che però danno la possibilità a tutti di poter fermarsi anche a pranzo a Todi e venire anche prima di pranzo per poi assistere a tutte le manifestazioni che ci saranno nel pomeriggio. Pomeriggio pieno di eventi, perché oltre alla solita Pompieropoli, che è una manifestazione che ai bimbi piace tantissimo, abbiamo anche le mani in pasta, vale a dire nonne che fanno dei piatti insieme con i nipoti, abbiamo una piccola scuola di pittura con il nostro artista Arnaldo Poselli, che poi è di Gubbio lui, ma verrà con me a Todi, farà una piccola esposizione, una mostra di pittura e insegnerà i primi passi della pittura ai ragazzi che vorranno presentarsi. Noi, scusate, in Città di Castello non avevamo più materiale da fornire agli alunni per quante persone, per quanti ragazzi venivano a provare a disegnare, quindi avere anche un maestro di un certo livello ci rende anche un pochino la manifestazione abbastanza di alto livello. Ecco, ecco, sicuramente sarà un bel successo il programma della giornata che è ricchissimo e penso che lo possano chiunque voglia consultare anche sulle pagine social, immagino di 50 e più. Abbiamo a 50 e più Umbria e 50 e più anche Gubbio nel senso che chiunque dei nostri soci che sono iscritti ma anche su Facebook vedranno queste pagine possono andare a vedere quello che noi facciamo anche giornalmente perché noi facciamo anche degli eventi culturali online perché quando non potevamo vedersi fisicamente abbiamo promosso degli incontri di grande cultura tramite video, quindi in videoconferenza. È stato un grande successo anche quello e anche lì abbiamo fatto anche dei corsi per i computer e nello stesso sempre online promossa appunto dalle grandi aziende di comunicazione e adesso li rifaremo in presenza perché noi abbiamo una grossa sede anche a Perugia oltre che la nostra sede di Confcommercio abbiamo la sede dell'Umbria dell'Università dei Sapori che è lì in piazza lì vicino alla stazione un grosso edificio dove abbiamo anche delle sale attrezzate per fare dei corsi di computer quindi faremo anche questi ma già abbiamo messi in campo anche questo fatto. Ecco allora Presidente lanciamo l'invito sia per la festa dei nonni il prossimo 2 ottobre a Todi ma anche l'invito a scoprire tutte le varie attività che porta avanti l'associazione. Una ecco mi ha dato lo spunto per dire che il 30 ottobre forse la più grossa manifestazione di interesse soprattutto nostro personale e che ci rende veramente felici è la premiazione dei maestri del commercio noi come 50 e più logicamente essendo figlia della Confcommercio un'associazione che vive di Confcommercio anche perché i nostri soci molti vengono dal mondo di Confcommercio e premiamo quei commercianti quelli del mondo del terziario che hanno più di 25 40 e 50 anni di attività con aquile d'argento d'oro e di diamante è una manifestazione che ci rende orgogliosi perché veramente diamo un premio a chi si è impegnato tutta la vita per la propria attività ecco allora da fissare in calendario anche quest'altra data del 30 di ottobre alla sala dei notari a Perugia premeremo circa 50 nostri soci con le nostre famiglie poi faremo un incontro conviviale quindi sarà un incontro molto molto bello grazie grazie al presidente Giancarlo Acciaio per averci un po' raccontato l'attività di questa associazione 50 e più quelle che lancerà di qui ai prossimi giorni una l'abbiamo detto già dal 2 di ottobre enfatizzando proprio l'importanza dell'invecchiamento attivo e del valore dei legami intergenerazionali grazie per essere stato con noi e per avercelo raccontato grazie a tutti e grazie a voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di TRG arrivederci grazie a tutti grazie a tutti